Posso dire che sono rinata, mi vedo ringiovanita da almeno dieci anni. Le mie difficoltà erano tante, a parte la situazione estetica, perché era diventata una situazione proprio incomprensibile. Avevo tanta fatica nel masticare, non riuscivo a mangiare, è partita anche una brutta digestione che mi ha portato dei problemi allo stomaco. Era qualcosa che mi ha messo la vita proprio alla stretta. Ero arrivata al punto che mi vergognavo anche di stare a chiacchierare con le amiche, di aprire la bocca, perché nei ultimi tempi i miei denti iniziavano a muoversi, quindi avevo proprio paura di ballare. Immaginatevi di mangiare cosa succedeva. Posso dire che sono rinata, mi vedo ringiovanita da almeno dieci anni, riesco a mangiare, riesco a sentire il gusto del cibo e a livello sociale cammino con la bocca aperta. Può anche mordere un panino, era diventato un lusso per me, quindi il primo pensiero mio è di poter mangiare bene, di sorridere a bocca proprio aperta, di fare un bel largo sorriso per tutti, di poter conversare, di poter chiacchierare, di poter fare tutto. Per chi decide e vuole veramente stare bene, io consiglio di farlo, perché deve vincere la paura, non si sente assolutamente nulla, sia con l'anestesia che ho scelto io, ma anche con l'anestesia in modo naturale, quella locale.